C'è come in tutti i mercati un problema di domanda e di offerta, è la camorra che ha organizzato il mercato dei rifiuti illegali o c'è stata una domanda di illegalità in questo campo e naturalmente quando c'è una domanda di illegalità è molto probabile che le macie abbiano un ruolo, non sempre ma è molto probabile che le macie abbiano un ruolo. E quindi abbiamo provato a rispondere a questi nodi, perché il caso dei rifiuti dal punto di vista dell'imprenditoria criminale è un caso da studio e se ci sono delle interconnessioni nei fenomeni criminali, perché altrimenti noi continueremo ad insistere con le macie come un problema di DNA dei meridionali e potrà far piacere a qualcuno, ma sul piano scientifico commetteremo un errore clamoroso. E' come il problema della cocaina o il problema della droga? Certo, le macie italiane per un lungo periodo storico sono state protagoniste del mercato della droga, ma perché non ci siamo mai posti il problema che il 50% della cocaina viene consumata dagli Stati Uniti d'America? E perché non ci poniamo il problema che forse il 50% del mercato italiano di concaina e nel triangolo Roma, Milano, Torino? Cioè si risponde a, chiamiamoli così, dei bisogni, si risponde a dei bisogni. Se non ci fossero questi bisogni non si organizzerebbe il mercato criminale. I mercati criminali in genere come si forma nella storia? Il mercato criminale nella storia si forma innanzitutto attraverso la proibizione di cose che si avvertono come necessarie. Qui non diamo dei giudizi morali su ciò che si ritiene necessario, ma in genere quando viene proibito qualcosa per ragioni morali, ma al tempo stesso c'è un bisogno da soddisfare, in genere quando si crea un mercato illegale su un bisogno reale, la criminalità può dominarlo. Non ci spiegheremo perché da una sperduta isola nel Mediterraneo si sia organizzata una delle criminalità più feroci al mondo, ma la svolta della mafia non è nella sua storia, la svolta della mafia siciliana nel 1957, quando i mafiosi americani, cosa nostra americana, incontrano l'hotel delle Palme a Palermo e propongono ai loro cugini o fratelli siciliani se vogliono fornire il mercato e vogliono ospitare alcune raffinerie di droga. Il salto moderno della mafia siciliana non è nella storia della Sicilia, il salto moderno della mafia siciliana è questo ruolo internazionale che improvvisamente sulla base di questi legami viene ad assolvere. Quindi noi abbiamo o dei mercati che si formano sulla base di una proibizione, chiamiamolo l'economia del vizio, l'economia del vizio in genere è l'economia dominata dalla criminalità perché il vizio è fuori legge per ragioni morali o è fuori legge per ragioni di ordine pubblico, la prostituzione, la droga, il gioco d'azzardo, chiamiamolo l'economia per intenderci del vizio. Questo è uno dei principali mercati dominati dalla criminalità. Gli altri mercati dominati dalla criminalità paradossalmente non sono mercati imprenditoriali straordinari, anche qui non voglio sottovalutare il ruolo delle criminalità, ma questi non sono straordinari imprenditori, noi non abbiamo a che fare con geni dell'imprenditoria perché le mafie non occupano mercati competitivi, la mafia fino in fondo è sempre imprenditoria speculativa, la mafia si occupa sempre di mercati dove il ricavo è molto elevato e dove la possibilità di monopolizzare il mercato è molto alta. Noi non abbiamo imprenditori di auto, nessun mafioso costruisce auto, nessun mafioso costruisce vende libri, nessun mafioso ha una imprenditoria dove c'è un rischio elevato, cioè la mafia in genere non sta nella produzione ma sta nella distribuzione e nella distribuzione dove sta la mafia sta in genere i mercati protetti dalla politica o i mercati gestiti dalla pubblica amministrazione. I settori fondamentali della mafia imprenditrice sono l'edilizia, sono i trasporti, sono i rifiuti, come vedete settori dove è fondamentale l'autorizzazione pubblica o settori che in gran parte sono finanziati dal pubblico. Appunto tra le cose indicibili dell'Italia contemporanea è che noi abbiamo una criminalità che viene considerata un attentato alla sicurezza nazionale, ma in gran parte questa criminalità è sostenuta dal proibizionismo di alcuni vizi ed è sostenuta dal sostegno pubblico. La drangheta calabrese ha utilizzato i sequestri di persone e poi la costruzione della Salerno Reggio Calabria per buttarsi nel traffico delle droghe, i capitali che ha utilizzato vengono da lì, la mafia siciliana ha utilizzato il sacco di Palermo come capitale per mettersi nel traffico della droga, la camorra napoletana in gran parte ha utilizzato il contrabbando di sigarette e poi il terremoto del 1980 per fare quei capitali necessari a competere sul mercato internazionale. Oggi uno si può chiedere, ma scusate, com'è che combatti una mafia che si alimenta delle stesse risorse? Com'è che lo Stato da un lato consente alle organizzazioni criminali di dotarsi di capitali che derivano dai finanziamenti pubblici e poi dall'altro lato lo combatte? Ma questa è una storia che riguarda l'Italia e per quanto riguarda la droga riguarda gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America devono spendere milioni e milioni per corrompere nel mondo altri governi, per tentare coltivazioni alternative per proteggere le proprie frontiere e noi ci troviamo di fronte a un mercato che è alimentato in gran parte di peso per il 50% da consumatori degli Stati Uniti d'America. Quindi quando parliamo di mafie non dobbiamo immaginarci straordinari imprenditori, non facciamo l'errore di sopravvalutare le straordinarie abilità, in gran parte sono imprenditori di illegalità, sono molto bravi ad intraprendere laddove ci sono mercati illegali. Noi forse siamo stati un po' seduti dall'interpretazione di Pino Arlacchi sulla mafia imprenditrice, ma non abbiamo riscontri in tutte le attività che andiamo a controllare, in cui la mafia fa impresa, non siamo colpiti da settori innovativi, in genere la mafia investe dove c'è un altissimo apporto di capitale e in genere laddove può fare guadagni superiore alla media dei mercati legali. La mafia in genere investe sui mercati legali quando i mercati legali hanno un retroterra illegale, perché ad un mafioso conviene sempre di più muoversi sui mercati illegali perché guadagna di più, quando entra sui mercati legali entra in genere per riciclare, per darsi un'immagine di persona per bene, ma mai perché ritiene che quel mercato legale gli frutti di più dei mercati illegali, mai, non succede quasi mai che i mercati legali possano dare di più dei mercati illegali. Dunque noi parliamo di un settore, quello dei rifiuti, che è in gran parte dominato dal pubblico, in gran parte finanziato dal pubblico e per pubblico dobbiamo intendere i comuni, l'amministrazione provinciale, l'amministrazione regionale e il ministro. Quindi noi siamo di fronte ad uno dei casi in cui si è consolidata una mafia imprenditrice sulla base di un settore pubblico. Ecco, dicendo queste cose sembrano scontate, ma finché uno non le mette così in maniera una dietro l'altra queste cose non sembra così scontate, uno chissà che immagina quali straordinarie capacità hanno questi. Poi perché è successo che la Camorra è diventata protagonista? Per ragioni molto semplici, molto banali. La prima perché la Campania è più vicina della Sicilia e della Calabria rispetto all'industria del nord, è una questione geoterritoriale. La Camorra è molto più presente nel settore dei rifiuti tossici in quanto è più vicina geograficamente alla Sicilia e alla Calabria. Immaginate i costi superiori per portarla in Sicilia e i costi superiori per poi che nei rifiuti tossici incide in maniera notevolissima il trasporto, risparmiare 100 km, 300 km, 500 fondamentali. Quindi non è che ci sa, chissà quale straordinaria? Perfetto. Questa è la prima motivazione. La seconda è che essendo molto specializzata la Camorra casalese in opere pubbliche, avendo dominato per alcuni anni il settore delle cave, cioè l'estrazione delle cave, prima che lo Stato italiano si rendesse conto che era uno dei settori da tenere più sotto controllo, nelle cave dove loro estraevano il materiale per le opere pubbliche, quindi avevano molte cave a disposizione. C'è di più, in genere, ma anche qui nel Veneto, come Veroni ha dimostrato nel suo saggio, in genere succede che i rifiuti tossici, chiamavano i pericolosi, in gran parte è molto conveniente metterli sotto le opere pubbliche, è molto conveniente perché si risparmia, è molto conveniente perché è un mezzo nel passato, considerato normale di smaltimento. Prima che esistessero i controlli pubblici, prima che esistessero forme di smaltimento organizzato dei rifiuti, questa era la passi normale.